una tribolatina al giorno si, o l'america Oh 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 Senza nemmeno usare l'accelerazione Ma la tua? Ma sei senza macchina? Wow Variante alverosa e obbligatoria Vabbè E' un po' di più. E' un po' di più. grazie Luca ho ho ma a scoacea di là Sì, sì. ma che hanno scritto fumo e potenza hanno scritto fumo e potenza fumo e potenza fumo 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 guarda come la gira c'è una barca è come se fosse una barca l'ancori lei buuuu che spettacolo ma tu non hai fatto neanche un giro sopra lui il tester è lui no vabbè ma anche per dire che mezzo ragazzi se vuoi caricare subito si anche perché poi fa buio aiutiamo noi un attimo anche perché dopo noi andiamo via saranno sono quasi le 4 praticamente l'ho già rotta Davide che mezzo io voglio sapere cosa ne pensi della guida allora